Sicuramente a Vienna è sempre una partita tosta, quest'anno come ogni anno hanno una buona squadra e quindi sarà una gran bella battaglia, anche un ottimo test per noi per vedere un po' a che punto siamo, proprio a livello di squadra, quindi giocare contro una squadra top come il Vienna. Sì, adesso in trasferta, come ho detto, è un gran bel test per noi, ovviamente in trasferta dobbiamo giocare più semplice, cioè, come stiamo facendo ultimamente ovviamente, lavorare sulle cose le quali stiamo sbagliando parecchie, anche se stiamo vincendo, però ci sono sempre delle cose dove dobbiamo migliorare come squadra e, come ho detto, è un ottimo test e anche stare via di casa un po' per qualche giorno non è neanche una brutta cosa e stare insieme con tutti i ragazzi sicuramente è un attimo con un bel tempo per fare un po' di team building. I think it's going to be a tough game, especially on the road. Vienna's good, they're skilled, they're fast, so it's going to be an exciting game. I think it's one thing to win at home, and it's a totally different thing to win on the road. I think, you know, it's a little bit harder, you know, teams always play better at home, so, yeah, it's going to be a tough game. We have to do all the small things right, and I think we'll be okay. We have to do all the small things right there. So, yeah, let's do all the small things right there. Grazie a tutti